signori ho delle novità importantissime della serie tv di strange things numero 5 signori prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su tutti i canali social e andare a vedere il mio sito web che trovate sui canali instagram informazioni e tra l'altro sta veramente tuonando in una maniera signori novità importantissime riguardate strange things 5 abbiamo un'immagine di max e lucas che stanno insieme all'ospedale ea quanto pare max è viva nella quinta stagione possiamo vedere che è viva ma non è tutto oro ciò che lucida perché a quanto pare ci sarà un salto temporale di ben tre anni signori tre anni quindi strange things 5 sarà ambientato nel 1989 e a quanto pare abbiamo anche una notizia riguardante un personaggio amato nella serie ovvero 11 11 a quanto mali bobby brown è stata intervistata per a quanto pare con delle novità di strange things 5 ea quanto pare lei non ha visto il copione ancora il copione avrà visto però ancora non ha visto la sceneggiatura e a quanto pare gli è stata spoilerata per così dire tramite la sua curiosità il finale della sua vita cioè del personaggio di 11 e non mi dico niente andate a vedere l'intervista però a quanto pare strange things 5 non è che sarà un finale tutto rose e fiori